le buone abitudini mattutini mattiniere del mio miscio sono a Tignano a casa mia questo a una certa ora vuole uscire fuori guardate di occhio la bellezza di questo gatto Misho, te non puoi pensare che mi debba alzare alle 5 perché te hai bisogno di dare un'occhiatina fuori e poi soltanto per questo, è la curiosità, comunque è meravigliosa, diciamocelo pure eppure questo è un gatto randasio, raccattato 3 o 4 anni fa, era di una famiglia nella zona della Betone era il gattino di casa, poi chiaramente è arrivata la femminuccia, cioè la bimba, la neonata e i gatti si buttano via andiamo Misho, su, ora si rientra, andiamo, che è freddo andiamo, su